Ciao amici benvenuti, oggi ho il piacere di portarvi nella zona sul Sardegna e in particolar modo nella zona di Costarei. Vi presenterò tre splendide ville in costruzione e vi prego seguitemi per vedere oggi la Villa Campione. La Villa Campione è costruita sull'otto a 750 metri quadri e ha una superficie coperta di 240, dislocati su due livelli. Al primo piano troviamo nella parte esterna un comodo giardino su quattro lati con una bellissima piscina a sfioro. Nella parte interna invece abbiamo una zona living luminosissima con una cucina open, un bagno di servizio per gli ospiti e a concludere la camera padronale con il bagno privato. Seguitemi ora al piano inferiore dove troviamo la seconda zona living, tre comode e luminose camere matrimoniali tutte con bagno privato e un giardino che abbraccia tutto il piano. Grazie a tutti.